Questa mattina l'On. Marco Pannella è tornato a Teramo, sua città natale, per promuovere personalmente la nuova campagna di raccolta firme sui 12 referendum radicali, 5 dei quali sulla giustizia. Iniziativa appoggiata anche dagli esponenti del PDL regionale, tutti presenti per firmare. L'obiettivo minimo è raccogliere 500.000 adesioni. L'obiettivo è di farlo sapere agli italiani, perché se lo sanno l'obiettivo non è 500.000, è 2 o 3 milioni, se lo sanno. Se riescono ancora a impapocchiare l'opinione, a non far sapere niente, allora può essere in rischio. E quindi sono contento che qui oggi, devo dire, facciamo questa cosa, perché partiamo, non proprio solo da Teramo, ma partiamo da qua, dall'Abruzzo, con tutti quelli che ci stanno. Ti gradisco una cosa, la Pozzodini? La facciamo nella sede del PDL, il PDL, mentre nel PD senza L, purtroppo non abbiamo tenuto nessuno in vita, se no ci saremmo andati pure lì. Quindi la battuta è questa, oh compagni, svegliatevi!